ci vediamo al san nicola e da fuori ci non vola io dico vari ragazzi ho detto bari lo sto dicendo da un po di tempo ha segnato il Cagliari non ci posso credere ma chi ha segnato? cioè questa è la disperazione è la disperazione dillo alla mamma dillo all'avvocato è il gol no no il gol di Pavoletti no no non è possibile non è possibile Pavoletti porta il vantaggio il Cagliari non è possibile Pavoletti così no così no così no deve essere la lunga nottata qui a bari dei festeggiamenti per la promozione in serie A invece deve essere la lunga nottata qui a bari dei festeggiamenti per la promozione in serie A invece deve essere la lunga nottata qui a bari dei festeggiamenti per la promozione in serie A invece quello che abbiamo visto questa sera è un qualcosa di incredibile quasi sessantamila sessantamila persone allo stadio per raga che brutta che brutta cosa il bel ha perso non ci credo non ci credo non mi fate scappare e e tu amico cagliaritano che pensavi il video non lo facevo e 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